E' stato recuperato, nella tarda serata di ieri, il cadavere dell'uomo trovato a Barletta, all'interno di una condotta fognaria che costeggia via Andria, all'altezza del ponte della 16 bis. Si tratta del 28enne Petru Popa Marinel, cittadino romeno senza fisse di mora, e con a carico diversi precedenti penali. Ultimo, un arresto per rapine risalente lo scorso mese di settembre. La macabra scoperta è avvenuta ieri pomeriggio da parte di un operaio dell'Acquedotto Pugliese, intervenuto per liberare una conduttura. Grazie all'utilizzo di una sonda, il tecnico si è accorto ben presto che a distruire la condotta fognaria non erano i soliti detriti, bensì il corpo senza vita di un uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Barletta, con il supporto della sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Con i militari, anche gli uomini della sezione Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco, impegnati sino a tardasera nelle operazioni di recupero. Secondo quanto emerso dall'ispezione cadaverica, sembra che il cadavere fosse lì da almeno una decina di giorni. Da una prima analisi medico-legale compiuta sul posto, non sarebbero stati rilevati segni di violenza sul corpo del giovane romeno. Solo l'autopsia, che sarà eseguita tra oggi e domani al Policlinico di Bari, potrà chiarire le effettive cause del decesso. Intanto, resta da accertare come l'uomo possa essere finito nella condotta fognaria. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore del Tribunale di Trani, Marcello Catalano, che ha seguito sino a conclusione il lavoro dei Vigili del Fuoco. In queste ore, i militari stanno cercando di mettersi in contatto con amici e conoscenti del ragazzo, fidanzato con una donna residente a Benevento. La compagna aveva denunciato la sua scomparsa alcuni giorni fa.